Sì, abbiamo deciso di mostrare anche in Parlamento europeo il nostro sostegno con chi sta portando avanti uno sciopero della fame che oggi vive una situazione anche dal punto di vista della salute critico. È uno sciopero della fame che ha avuto origine con una scelta coraggiosissima di Leila Guven, la cui salute in questo momento è a rischio, è a rischio la sua stessa vita. Abbiamo incontrato nella giornata di ieri le persone che sono a Strasburgo, che stanno portando avanti da ormai circa 80 giorni questo sciopero della fame in solidarietà con Leila Guven, tra queste di Ilec Ocalan che oggi è intervenuta a una nostra iniziativa in Parlamento europeo. Tengo a rimarcare due cose. In primo luogo l'obiettivo di questo sciopero della fame è chiedere la cessazione dell'isolamento di Abdullah Ocalan. che è impossibilitato anche al solo poterlo interloquire con i propri avvocati e il fatto che vengano espressi dei giudizi e delle condanne sulle violazioni dei diritti umani nelle carceri turche. La seconda ragione per cui abbiamo scelto la voce di Ilec per parlare di Turchia è che sappiamo che le donne kurde sono in questo momento un punto di riferimento non solo per l'antifascismo e la lotta del popolo kurdo ma per il movimento femminista per le donne in tutto il mondo. La loro esperienza di corrappresentanza, la loro lotta in prima linea contro Daesh è qualcosa che ovviamente ci fa dire che siamo tutte in debito con le donne kurde, con le donne come Dilac e tutte solidali con la loro battaglia. L'accordo sui migranti, o meglio contro i migranti tra l'Unione Europea e il regime di Erdogan in realtà rende molto debole la posizione dell'Unione Europea per quanto riguarda il tema dei diritti umani in Turchia e la solidarietà col popolo kurdo. Da questo punto di vista il tema è quello della sospensione, del congelamento, della cessazione di questo ingresso ormai sempre più lontano della Turchia all'interno della compagine europea. Noi abbiamo sostenuto la posizione dell'HDP che ci ha espresso attraverso una lettera, una lettera di Demirtas che ci chiede appunto di non chiudere completamente il negoziato esattamente per lasciare all'Europa uno strumento di pressione nei confronti della Turchia.